Continua il restauro dei monumenti cittadini. Lunedì 10 giugno inizieranno i lavori di recupero dei busti dedicati a Pietro Vassena e Antonio Ghislanzoni in via Lungolario Isonzo e a Giuseppe Mazzini nell'omonima piazza. Gli interventi saranno realizzati a fronte di una proposta di collaborazione inoltrata all'amministrazione comunale dalla ditta Luzzana Restauri di Civate ai sensi del regolamento per la cittadinanza attiva. Il primo monumento a essere interessato del lavoro sarà quello dedicato all'inventore del battiscafo C3, composto da un blocco in granito su cui è applicato uno busto in bronzo. Dei tre monumenti è il meglio conservato. L'intervento prevede il ripristino del granito, l'eventuale stesura di un protettivo, nonché la pulizia della scultura e l'applicazione di apposite cere. Versa invece in condizioni peggiori il mezzo busto in bronzo dello scrittore e librettista Antonio Ghislanzoni che poggia su un piedistallo in granito. Presenti depositi di sporco di vario genere, ma anche delle evidenti formazioni di colore verde prodotte dalla corrosione del rame. Per concludere, anche il monumento dedicato a Giuseppe Mazzini, costituito dal mezzo busto in bronzo del patriota e da un basamento in granito riportante una scritta ripresa dall'epigrafe di Giuseppe Carducci posta sulla sua tomba, necessiterà di un importante intervento di restauro. Prevista la pulizia del granito, la stuccatura delle fessure e la ripresa delle lettere incise. Siamo molto contenti che attraverso il restauro conservativo si possano ricordare e si possa rendere omaggio a tre personaggi illustri della storia del nostro paese, commenta l'assessore al patrimonio del comune di Lecco, Corrado Valsecchi. Pietro Vassena, Antonio Ghislanzoni e Giuseppe Mazzini sono personalità differenti, ma che hanno saputo distinguersi ed eccellere nei rispettivi campi della scienza, della cultura e della politica e i monumenti a loro dedicati, situati nel cuore della città di Lecco e sul suo lungolago, meritano l'attenzione particolare e professionale che ora finalmente siamo in grado di dedicare loro.